Si svegli, Mr. Freeman. Si svegli. Non che voglia insinguare che lei abbia dormito sul lavoro. Nessuno merita riposo più di lei. Ma tutti gli sforzi del mondo risulterebbero vani finché, diciamo solo se è di nuovo giunto il suo momento. L'uomo giusto nel posto sbagliato può fare una grande differenza. Perciò si svegli, Mr. Freeman. Apro gli occhi e si svegli. Grazie a tutti.